benvenuti sul primo video di minecraft allora questo è il mio mondo che ho creato ieri come il gioco che ho scaricato ieri e sto facendo i primi progressi ora ero andato in miniera per rendere i materiali visto che sono povero e iniziamo comunque raga ci saranno molti ospiti che saranno da aiutarci in tutto vabbè io ovviamente con l'intrattenimento vorrei fare pratica ma no voi non avete visto niente niente devo farmi un piccolo di ferro quindi vabbè in pietra e quindi raga voi noterete tipo ogni cosa in questa serie per esempio i diamanti quelle cose la che io non prendo perché mancano rango tango però proverò a fare del mio meglio scusate se raga minecraft non è quello originale ma è uno fake soltanto che non ho i soldi quindi mi toccherà giocare su questo qua che comunque è fatto abbastanza bene beh io vivo c'è qua miniero c'è c'era che è molto facile giocarci a presto a presto devo fare una via per la pubblica donno possiamo Poi quando il mio amico, mia cugina, lei è quella che mi monta il video Oltre al video ovviamente certe cose non le farò vedere Per esempio la pubblicità E a me se non ve la dici questa cosa qua Poi sono un labbo proprio labbissimo raga Però comunque raga, eh vabbè sempre raga di cuore Però che raga questa è la mia prima volta Una delle mie prime volte che gioco Minecraft E qua fa il telefono Quindi quindi Di io il gioco Oppio A proposito raga consigliatemi nei commenti cosa fare con il verbo Perché per ora non lo utilizzerò No? 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 Oh attention animals Ehm... Devo andare a prendere della legna Finirò con il mio spio subire Con il mio super parcours Che nessuno mai sapebbe cosa fare Comunque ragazzi Vi do a fastidio una cosa nel video Dite pure nei commenti Così nel caso posso migliorare Perché non lo faccio da tanto Togli lo shift Madonna Devo notare che tra tutti gli albi Che dovevo disfruggere Quello che odio di più Però su questo gioco E' tutto diverso Questo non è Minecraft Questo è un altro gioco Oh cari Che caccia Che cavolo devo Scusate per la parvaccia Ma che cavolo devo fare Quando li ignoro A vermi c'è C'è Per la parvaccia E' tutto perché io ragazzi Mi voglio tanto bene Faccio un pezzo di armatura Del metto Perché Del metto se lo sapete Del metto terzo E nel metto Molta fruttura di Minecraft E ragazzi Sono quasi arrivati dieci minuti E ci li dobbiamo lasciare Bene In questo tempo Faccio La parte finale Vi saluto Per mettere un pezzo Adesso Beh ragazzi Se il video vi è piaciuto Vi invito a lasciare un commento Mi piace E ci vediamo Dallo posto Matti Matti Channel 44 Ciao a tutti raga E non vi dimenticate Pure di attivare La campanina E di iscrivervi Perché Il mi piace Non mi basta Si Beh raga Per come il primo episodio Di Minecraft Ovviamente Avevo fatto un botto Di errori Però che probabilmente Mi direte cosa ho sbagliato Così Potrò migliorare Dal vostro Matti è tutto E Ciao E la tosse Mi sta mangiando Pure